Quest'anno abbiamo intanto delle belle sorprese perché dopo lo start up dell'iniziativa si sono aggiunte molte realtà, sempre nello spirito che accennavamo allora, cioè in autoproduzione totale, quindi con totale autosostentamento. E quindi la festa si è allargata, partiamo non più da Morciola ma da Cappone ed arriviamo praticamente fino al New Day di Montecchio dove tutta la sera avremo somministrazione di cene, pasti o stuzzicherie, aperitivi, addirittura colazioni in mattinata presto tipo a luna del mattino il New Day inizierà le colazioni, la bodeguita di bottega allo stesso modo inizierà le colazioni a mezzanotte. Abbiamo con sorpresa trovato una grandissima risposta, c'è grande esigenza di questa festa, lo spirito sembra essere permeato anche tra le persone in quanto tutti hanno capito il tenore della festa che sarà una sorta di riunione per prepararsi al prossimo anno. Questo non vuol dire vivere la festa in maniera riduttiva ma sempre rispettando le poche e semplici regole che ci danno dal governo, l'indossare la mascherina in caso di assembramenti un pochino più fitti, rimanere nelle zone all'aperto comunque e avere un deflusso più regolare anche per il fatto che non arrivano più i pullman con 50 persone tutte insieme ma tutto è diluito dal traffico e dal movimento a piedi. La gente sta prenotando, abbiamo dei buoni riscontri sia io come attività ma anche i miei colleghi che hanno attivato questa affiliazione diciamo e in questo senso le aspettative che per noi non dico che siano basse, tutt'altro, noi abbiamo delle aspettative reali, sappiamo che condizioni ci troviamo e sicuramente avremo delle belle sorprese perché siamo convinti che la cosa avrà una grande partecipazione a sentire anche dai rumors tra la gente. L'edizione di quest'anno è un'edizione che è fatta diciamo in maniera importante perché sono tantissimi quelli che hanno aderito all'iniziativa ovviamente rispettando le norme, supernotazione eccetera, però c'è una bellissima viva città che secondo me ci porterà tanta gente in maniera diversa quest'anno non ci sono i pullman, si farà un percorso ciclopedonale, la gente possono andare a piedi in bicicletta lungo tutto il percorso però ecco e al di là di ogni altra aspettativa almeno dal mio punto di vista insomma ha fatto un bel lavoro Giovanni con la sua associazione e poi questo è un preparativo diciamo quando si torna alla normalità sia per il periodo invernale perché noi prevediamo un evento diciamo nel periodo di fine novembre prima di tutti gli eventi firistici diciamo nel territorio e sia per le attività che dureranno tutto l'anno perché noi pensiamo nel tempo di avere una stagione turistica, culturale, teatrale e così via che duri tutto l'anno. Grazie